Girl on Fire è il quinto album in studio dell'americana Alicia Keys, cantautrice, produttrice e vincitrice di 14 Grammy. L'album contiene 13 brani prodotti dalla Keys, pezzi forti e intime ballate e modellate sulla sua vita emozionante. Un repertorio col quale il pubblico potrà identificarsi. Credo che l'intero album sia più appassionato rispetto a quelli precedenti e sia più profondo, forse più accessibile. È stato un album in cui mi sono aperta di più, realmente sono più trasparente, mostro me stessa quel che provo. Credo che da giovani si sia più gelosi di se stessi, forse ci si vuole proteggere di più. In questo disco la Keys ha lavorato con artisti di talento come Babyface, ma anche l'autore Jeff Bussaker. Girl on Fire è la mia droga, è come me, quando mi osservo nel mezzo del cammino mentre urlo, con tutto il fiato che ho. Sono io, sono qui e mi accetto per quello che sono. Rappresenta una parte importante delle cose che ho attraversato, quello che ho raggiunto. Mi piace per quell'aspetto di aggressività che c'è in te e che è nelle ragazze che sono in fiamme. L'album contiene un entusiasmante mix di suoni che la Keys ha scoperto mentre registrava e viaggiava per il mondo, fra la Jamaica e Londra. Il tutto confezionato anche alla luce delle sue radici new yorkesi. Al prossimo episodio Grazie.